Novità per la spiaggia dell'antenna di San Martino a Sanremo. Il tratto di arenile è stato affidato dal comune al vecchio gestore la San Martino Mare SAS di quando era ancora una spiaggia attiva. Ora può essere utilizzata soltanto come solarium provvisto però delle necessarie attrezzature. L'arenile ricordiamo che non è più balneabile dallo scorso anno ma potrà rivivere per due anni come solarium e con svolgimento di attività ludico-sportive ma non connesse all'uso del mare e della balneazione. Ora dopo le opportune verifiche previste per legge e i verbali di consegna la spiaggia potrebbe aprire già per le festività di Pasqua. Anche se non è più balneabile avrà un gestore fino alla fine della stagione estiva del prossimo anno fornito di bar e cabine. La regione aveva vietato in modo permanente di fare i bagni in mare nella spiaggia dell'antenna per due anni consecutivi e poi le analisi effettuate in mare dall'ARPA l'avevano evidenziato l'inquinamento. E il comune così si era visto costretto sempre dalla regione attraverso un provvedimento ad emettere l'ordinanza di divieto permanente. A nulla sono serviti gli incontri e le proteste dei cittadini della zona per riavere lo specchio acqueo che si trova vicino alla prodo di Portosole. Ora la speranza è che per la stagione estiva del 2017 lo stabilimento torni a lavorare a pieno regime per la gioia dei bagnanti.